Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessila News. Borsellini, portamonete, portachiavi... A cosa vi fa pensare? Noi pensiamo subito alle chiusure a click-clack, perfette per la realizzazione di tutti questi piccoli accessori. Che ne dite di scoprirle insieme a noi? Bene, scopriamo insieme allora le nostre click-clack. La prima che vediamo è la click-clack hard side, nella colorazione oro. Qui la chiusura è posta lateralmente ed ha una forma di cuoricino. La click-clack ha una lavorazione in rilievo lungo tutto il suo perimetro. Passiamo invece alla click-clack chic, nella colorazione argento. La particolarità della chiusura posta lateralmente è composta da una sfera ed un gancino. Tutte le click-clack che vedremo ora sono click-clack adatte ai portamonete, che avranno una misura di 8,5 cm all'incirca di ampiezza e 7 cm all'incirca per l'altezza. L'ampiezza invece della click-clack da chiusa è di un centimetro all'incirca. Vi ricordo che tutte le misure delle varie click-clack sono sempre riportate nella seconda foto del catalogo. La click-clack con chiusura a cuoricino è disponibile anche con la chiusura centrale e la superficie della click-clack liscia. Sempre sulla stessa linea abbiamo anche la click-clack sfere, che è ovviamente disponibile in varie colorazioni e anche con la lavorazione lungo la click-clack. Passiamo ora delle click-clack super colorate. La prima che vediamo è la click-clack Ball Rainbow. Quindi, come vediamo, la chiusura è disponibile in diverse colorazioni oppure a tinta unita. La click-clack ricciole invece presenta sempre delle sfere colorate, quindi un colore più perlato e anche delle applicazioni. Passiamo ora delle click-clack che sulla chiusura presentano varie forme o personaggi. La prima che vediamo è la click-clack Fiorellini, Pesciolini, Ball e Gattini. Ed infine abbiamo la click-clack Bear, che come potete vedere ha una forma leggermente più squadrata, questo in quanto ha un'altezza leggermente superiore, che arriva a 7,5 cm. Tutte queste click-clack quindi presentano una lavorazione lungo tutto il perimetro. Nella nostra collezione non potevano di certo mancare delle click-clack adatte anche a situazioni un po' più eleganti, come ad esempio la Crystal Evo, resa molto elegante dall'applicazione di queste pietrine molto luminose. La click-clack Diamond Argento ha invece una chiusura che ricorda un tulipano con un'applicazione brillante alla fine. Molto particolare è anche la click-clack Gemma. Qui possiamo vedere che la chiusura richiama la forma di un fiorellino al cui interno vi è una sfera colorata. Ed infine la click-clack Fiorellino. Qui il fiore è in rilievo, in questo caso ricorda proprio una rosa. Le colorazioni anche per questa sono differenti. Non poteva di certo mancare anche una click-clack un po' più insolita. Stiamo parlando della click-clack Modern, che ha una misura di 8,1 cm all'incirca di lunghezza per un'altezza di 4 cm circa. Differente anche nel materiale in quanto in plastica ha sempre un'apertura molto semplice. Quella che vediamo è la colorazione giallo, ma è disponibile in tantissimi colori per potervi sbizzarrire. Vi ricordo che per molte click-clack come quella Fiocchetti sono disponibili due versioni, quella più rotondeggiante ed una squadrata. Se cercate una misura leggermente più grande di quelle viste finora, la click-clack Delicious fa il vostro caso. Questa ha infatti una lunghezza di 12,1 cm all'incirca per 5,5 cm di altezza. La colorazione che vediamo è quella a oro e presenta una chiusura con applicazione floreale. Anche questa è disponibile in diverse colorazioni. Ed infine vediamo le click-clack adatte ai portachiavi. Come vediamo sono davvero piccine. La prima ha una misura di 5 x 3,5 cm, mentre la seconda di 4 cm x 3,5 cm all'incirca. Queste click-clack sono già comprese di aggancio per portachiavi, che ha un diametro di 2 cm all'incirca. Potrete quindi scegliere tra una click-clack leggermente più grande con una decorazione lungo il perimetro più delicata e una in cui invece è la decorazione più marcata. Come abbiamo visto ci sono diverse misure, ma soprattutto diversi modelli. Possiamo passare da quelle più semplici a quelle super colorate. Vi ricordo che il foro per tutte le click-clack ha la misura di circa 1 mm. Potrete quindi utilizzare i cordini come ad esempio il tie skinny o il tie slim, che oltretutto esalteranno ancora di più lavorazioni con punti a rilievo. Quindi potrete davvero sbizzarirvi a personalizzare il vostro portamonete come preferite. Passiamo invece ai portachiavi. Una click-clack davvero piccolina, che è davvero una chicca nel catalogo Tessiland. Perfetta anche per la realizzazione di piccoli cadeaux per delle feste o anche per un portachiavi davvero originale e personale. Molte delle click-clack che abbiamo visto inoltre sono disponibili, oltre che nella colorazione argento o oro, anche nella versione bronzo. Quindi vi invito a scoprirle insieme a noi e attendiamo tutte le vostre creazioni. Arrivati a questo punto vi ricordo di attivare la campanella, iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci su tutti i canali social, così da essere sempre aggiornati su tutte le novità Tessiland. Vi ricordo la pagina Facebook Meglio di Maglia e Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessiland News!